Sia nel campo dell'arte, sia nel campo della cultura, della musica. E noi come amministrazione ci crediamo a queste persone. Io in questi anni ho cercato sempre di fare alcune manifestazioni con gli artisti di San Nicola. La propria terra, la propria terra, e lo dimostra con questo suo primo lavoro discografico. Ma la cosa più bella è che questo CD fonda le sue radici nella propria terra, ma soprattutto nella sua propria famiglia. Io non mi voglio dilungare, ascoltate e capirete tanto. Grazie. La sua propria terra, la sua propria terra, e lo dimostra con questo suo primo lavoro discografico. No pensare a Lugania 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 No pensare a Lugia No pensare a Lugania 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 E poi No pensare a Lugania 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 No pensare a Lugia No pensare a Lugania 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 No pensare a Lugania